Credo che in questa circostanza, come in tante altre, occorra avere il massimo rispetto per il lavoro della magistratura che deciderà il da farsi, arriverà a delle conclusioni, poi vedremo quali saranno. Dunque, nessuna intromissione di nessun genere nei confronti di un lavoro delicato, ma importante come quella che ha chiamato a fare la magistratura. L'Aviso di Garanzia ripropone un tema politico che non deve essere evitato. C'è stato purtroppo da parte di questa giunta una pessima gestione delle azioni necessarie per mettere in sicurezza il territorio che hanno portato a conseguenze rilevanti. Ecco, io vorrei si parlasse di quello, perché per il futuro della Liguria il problema dell'ambiente e della sicurezza del territorio continua a considerarli un'assoluta priorità.